Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video. Preparatevi al forte ritorno dell'inverno in Italia, a partire da lunedì 15 maggio 2023, ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima e, come al solito, sosteneteci con ammirazione per questo video e condividetelo con tutti onde evitare improvvisi e maltempo, se gli aggiornamenti sono molto forti, il forte uragano che ruota in senso anti-orario, di cui abbiamo parlato in precedenza, è ancora stazionario, e colpirà violentemente l'isola di Sicilia e le regioni meridionali d'Italia lunedì, per poi continuare a ruotare verso nord per unirsi alle regioni centrali e settentrionali, martedì 17 maggio 2023, con enormi quantità di pioggia e forti venti. Preparatevi quindi a questo potente uragano, che colpirà la forza delle regioni meridionali e centrali in particolare, e raggiungerà anche le regioni settentrionali con maltempo invernale, e dettagli più precisi, resta sintonizzato per questo più tardi, e alla fine, che tu sia in buona salute.